E Diego Di Bonaventura è il nuovo presidente della provincia di Teramo, una vittoria anche un po' a sorpresa Di Bonaventura. I pronostici erano altri ma è questo anche il bello della politica. È stato questo, sono il determinante che ci ha fatto anche vincere l'ennesima competizione. Perché sono stato candidato quasi all'unanimità con tutti i sindaci, eravamo io e Cristina Di Pietro, sindaco di Civitella, che va il mio primo saluto perché con lei abbiamo trovato la sintesi e abbiamo trovato un'intesa sul mio nome e da qui è partito un progetto inclusivo. Ho detto che era un progetto inclusivo e abbiamo vinto perché con umiltà abbiamo ascoltato tutto il territorio. A noi non interessava il voto ponderato perché qui quando si fanno i calcoli, non si gioca, non si fanno le cose col cuore, si perde. Io non mi sono interessato, quello valeva 6, quello valeva 0,5. Abbiamo girato l'intero territorio, l'intera provincia e mi interessava la persona che stava davanti, non quello che rappresentava. Noi abbiamo vinto con un perimetro di comuni. Adesso sono già preoccupato, infatti qualcuno mi diceva non festeggi, non ridi. Io quando vengo non rido mai perché una volta vinto non è che qui abbiamo una torta, abbiamo una serie di problemi. Perché oggi chi amministra, oggi non amministra più come negli anni 90. Oggi amministrare significa responsabilità e amministrare un'amministrazione sempre in decadimento. Ecco, abbiamo bisogno di idee, di strategie, di visione e abbiamo già una visione nuova per la provincia di Teramo e chiedo ai sindaci di essere pronti a fare un salto, un salto nuovo, per ridare speranza a tutti i territori, dal mare alla collina alla montagna. Io a questo voglio far sognare insieme a tutti, l'ho detto prima, una provincia diversa.